Gli impianti di risalita sono chiusi e così chi vuole mettere gli sci ai piedi deve trovare un'alternativa. Uno degli effetti dell'emergenza sanitaria nel mondo degli sport invernali è dato anche dalla crescita dello sci di fondo. Dal Nevegal alla Val di Zoldo fino alla Gordino al Comedico e al Cadore turisti e locali hanno scoperto o riscoperto i percorsi battuti. Così non manca chi suda a Fondovalle con la tuta da discesa o chi ancora in tenera età si avvicina a questo mondo. Abbiamo 35 bambini di tutta da qua che provengono dalle vallate limitrofe. In più di tutti questi tantissimi bambini che vedete ci sono anche tutti i genitori che intanto che aspettano che il bambino faccia il corso si sono attrezzati con gli sci e hanno riscoperto anche un'attività da fare tutti in famiglia. Quindi abbiamo le famiglie che vengono a sciare tutti insieme anche non solo il giorno del corso, non solo a Cibiana ma anche nelle vallate qui limitrofe. È uno sport che viene fatto anche a chilometri zero, sempre quando nevica chiaramente, ma semplicemente è molto semplice perché non ha bisogno di tante cose. È uno sport semplice e credo che la semplicità al giorno d'oggi serva. Grazie. Grazie.